Ciao a tutti, nel video di oggi i bambini con insieme a mamma Chiara, zia Francesca e nonna Marina passano una giornata di relax al lago, qui Leone fa anche il bagno in piscina, vi lascio al video, buona visione Pazzolona Questo è un cattivo e questo è un cattivo E' bellissima come sono il sole Ciao Ele Che siano mie Salute Ciao